Quanto è importante partecipare a un evento come questo? Per me questa conferenza è molto importante perché riconosce che la pace è un problema mondiale, abbiamo tutto l'interesse di trovarla, ma anche che non è un problema semplice, è un problema multidimensionale. Dunque qua abbiamo gli esperti di tanti temi diversi e tutti quanti portano il loro expertise al problema. Come è possibile far capire alla gente questo problema? Bisogna portare l'immagine, la realità umana, non è soltanto qualcosa di teoria, qualcosa di accademico. Quella è una questione della vita quotidiana delle persone, specialmente nel mondo povero, dove i bambini non possono andare a scuola per esempio perché c'è il conflitto armato, c'è troppo pericolo. Da quello è una realità molto concreta e io penso che per mobilizzare al pubblico bisogna comunicare che ci sono i bambini come i vostri, ma abitano in altri paesi, ma hanno il diretto alla stessa vita, le stesse opportunità che i vostri bambini. E per quello è una responsabilità per tutti. Un'ultima domanda, Science for Peace può raggiungere i suoi obiettivi? Io direi che il pericolo è troppo grande e dobbiamo raggiungere gli obiettivi.